Aste Antiquarie nel Palazzo di Fraternita per rilanciare e riqualificare la Fiera Antiquarie in vista del suo cinquantesimo anniversario previsto nel giugno 2018. Una serie di Aste Antiquarie collegate alle tradizionali edizioni della Fiera Antiquarie la prima domenica del mese e il sabato antecedente. Per formare questo elenco di case d'asta è stata attivata dal Comune di Arezzo con una serie di delibere della giunta comunale una procedura selettiva finalizzata all'organizzazione di questa iniziativa collaterale della Fiera da ottobre 2016 ad aprile 2017 all'interno del Palazzo di Fraternita. Tanti fattori che possono giocare a favore di questo ambizioso progetto, l'avvalersi di case d'asta di livello nazionale e internazionale con una propria fidelizzata clientela e una propria capillare capacità di promozione, la pilla del luogo esclusivo in cui l'asta sarà realizzata, la novità dell'evento, l'azione sinergica che il Comune di Arezzo potrà mettere in campo, la riconosciuta notorietà della Fiera Antiquarie retina e gli imminenti festeggiamenti per i 50 anni di questa manifestazione. Per chi vorrà partecipare c'è tempo fino al 1 settembre per inviare i moduli. L'informativa completa è prevista nel sito del Comune di Arezzo e anche in quello della Fiera Antiquarie.